buongiorno e benvenuti a questo piccolo video di presentazione di obs obs studio è un programma che si può utilizzare per effettuare lo screen casting serve anche per effettuare lo streaming in realtà eventualmente di molteplici sorgenti però lo scopo qua è di realizzare un minimo di aiuto di help per l'installazione infatti obs ha alcune opzioni che non sono esattamente facilissime da configurare allora vedete questo filmato in realtà è esso stesso realizzato con obs come si può vedere qui noi abbiamo il contattore dei secondi che sta correndo questa è la cpu utilizzata stiamo andando 30 frame al secondo questa tuttavia non è l'interfaccia standard di obs perché qui è stata ridotta è stata ridotta per essere più semplice per esempio questo preview che dovrebbe farci vedere che cosa normalmente si vede qui è disabilitato per facilitare il lavoro al computer ma se io vedete faccio tasto destro faccio enable preview e vedo effettivamente la finestra stessa vedete che si sposta sembra apparentemente ricorsiva proprio perché è la finestra nella finestra ok ora lo disattiviamo perché non serve però la cosa importante che la prima cosa da fare ovviamente è scaricare obs studio e installarlo non presenta problemi particolari in particolar modo sotto windows c'è anche per macintosh e anche per linux in quanto un prodotto open source ma il vero problema è la configurazione per cui adesso vedremo la configurazione innanzitutto quando voi lancerete obs per la prima volta non avrà un'interfaccia del genere e in particolar modo potreste vedere ragionevolmente altre cose tra cui per esempio vedete scene poi sorgenti e poi ancora possiamo mettere le transizioni di scena e per finire i controlli ok ora a cosa servono tutte queste cose servono poi qui di solito questo è anche abilitato ora quindi voglio installate poi una delle cose importanti da fare e installare cioè far sì che lui registri lo schermo allora per registrare lo schermo vedete che qui noi abbiamo schermo del pc e vedete che c'è scritto io ho fatto doppio clic qua sopra viene fuori display adesso vedremo come fare a configurarlo capto corso corsor così in questo modo c'è anche il cursore che comodo se però qui nella pagina sorgenti che qui io normalmente tengo disabilitato però voi avrete visto probabilmente abilitato oppure se non è già abilitato lo abilitate con view docs sources o sorgenti la versione italiana se non c'è lo schermo del pc siccome noi vogliamo catturare lo schermo del pc dobbiamo fare più e poi vedete che abbiamo tutta una serie di possibilità possiamo catturare svariati tipi di input tra cui ovviamente in in questo caso noi dobbiamo catturare lo schermo che appunto il display capture che adesso in questo caso non serve perché ce l'abbiamo già però vedete che noi abbiamo tutta un'altra serie di possibilità a parte l'audio browser e poi altre cose che in questo caso non ci interessano particolarmente bene allora disattiviamo tutte queste varie finestre perché in realtà non ci servono quindi disabilitiamo il preview e poi disabilitiamo anche le scene poi disabilitiamo sorgenti e disabilitiamo anche transizioni e anche i controlli vedete che i controlli servono per esempio per fermare la registrazione in questo momento la registrazione in corso questo il programma lanciato questa è la sua icona corrispondente vedete il puntino rosso indica che la registrazione in corso io potrei fermare la registrazione però naturalmente ovviamente a quel punto il puntino rosso e pallino rosso sparisce adesso noi per sicurezza togliamo anche questi controlli che tanto noi non servono ora qui sotto c'è il microfono quindi io in questo caso sto usando un microfono extra e una webcam extra il microfono vedete che qui se non è disponibile voi fate vedete tasto destro qua advanced auto properties qui avete alcune caratteristiche però per esempio voi andate qui fate per esempio anche di qua properties ecco è in questo caso vedete questo è qui avete la lista dei device che potete avere a disposizione io qui sto usando un microfono esterno usb plug and play ma altrimenti potrei usare anche il microfono interno del computer che è un computer portatile scegliete ovviamente quello che volete accertatevi che quando parlate il l'audio sia ovviamente si muova con l'audio e il volume eventualmente lo regolate in modo tale che quando smettete di parlare si abbassi il più possibile qui sulla sinistra vedete adesso io proverò ok deve arrivare almeno qua e poi non deve andare se possibile mai nella zona rossa in quanto altrimenti si rischia la distruzione bene ora direi quindi che abbiamo visto come settare il microfono visto come catturare lo schermo adesso però dobbiamo vedere i settaggi che sono la parte più critica vedete quindi file settings a qui avete anche un'altra voce che è stats che credo che sia qui stats statistics e serve vedere vedete in questo caso mostra che la registrazione sta funzionando vedete che su 37.000 frame ne ha persi 10 comunque parte questo allora settings ora qui lo allarghiamo leggermente per comodità ecco allora dentro general non vi è nulla di speciale questo sono i settaggi standard ok invece dentro stream siccome questo programma serve anche fare streaming ma noi non lo usiamo per questo in questo caso per cui anche qui è standard output invece importante allora questo è vedete modalità simple il bid rate 2500 poi qui è software x264 ho messo 160 per il bitrate dell'audio questo è il percorso dove vengono salvati i file vedete gli smonto desktop video registrazioni aula quindi una directory chiamata video registrazioni aula vengono salvati file vedete che è qui la directory è qui effettivamente qui c'è la registrazione vedete 4 marzo 2020 ore 18 02 e qui vedete che c'è il file 00 kb perché in fase di registrazione dopodiché generate file name without space è sempre meglio high quality medium file size si può anche avere una qualità più alta però poi il file diventa veramente troppo grande il formato mkv è importante perché il formato mp4 in caso di errore per esempio supponiamo che la registrazione duri in ora dopo 50 minuti si verifica un errore per cui il computer si blocca per fare un esempio voi perdete tutto perdete tutti 50 minuti nel caso delle mkv voi perdete soltanto i dieci minuti che mancano perché siete costretti a rifare però non perdete i 50 minuti precedenti quindi io preferisco le mkv encoder software x264 e basta quindi direi che qui siamo a posto audio vedete 44 e 1 kHz qui è tutto a posto vedete che qui ovviamente dovete scegliere come dicevo prima il microfono giusto e poi per il resto non ce l'ho di nuovo video qui allora vedete che questa questa è la risoluzione del video che c'è sul vostro computer che per esempio nel caso di un mkintosh è solitamente maggiore perché vi sono gli schermi cosiddetti retina che sono spesso anche dei 4k però la risoluzione con cui viene salvato il video è sempre la stessa la decidete voi in questo caso è un full hd 1920x1080 adesso qui sono in grigio quindi non sono modificabili perché il video già in corso consiglio di tenere il 1920x1080 per il full hd è un'ottima un'ottima qualità e al tempo stesso andrebbe bene per esempio che per realizzare filmati su youtube e cose del genere questo è il downscale filter perché naturalmente se questa qui sono uguali le risoluzioni ma qualora questa sia più grande deve essere ridotta in modo tale da ottenere questa risoluzione questi sono 30 fotogrammi al secondo poi abbiamo un problema come facciamo a far partire questo programma adesso qua io non mi sono posto particolari problemi ma normalmente non sarebbe tanto bello avere il l'obs è visibile quindi uno vorrebbe poterlo fare partire senza far vedere la finestra di obs ebbene qui nella versione hotkeys si possono selezionare delle delle combinazioni di tasti io per esempio ho scelto ctrl f per far partire la registrazione ctrl b per fermarla ok ctrl f per esempio in sotto windows viene utilizzato per cercare all'interno dei file io non lo uso mai per cui per me non c'è problema se voi decidete che questa combinazione di tasti per voi è già utile perché ovviamente se voi la premete all'interno durante la registrazione soprattutto ctrl b fermate la registrazione quindi dovete usare combinazioni di tasti che voi non usate normalmente però al posto di f ci mettete gli b quello che volete e funziona quindi soltanto queste due il resto non è stato modificato niente e sotto advanced in realtà direi che non è stato modificato proprio niente ok bene quindi qui adesso lo lasciamo così a questo punto noi stiamo correttamente registrando quindi vi ricordo qui c'è il video che si seleziona appunto dal pannello sources sorgenti qui c'è il microfono che si seleziona da qui o dall'altra parte e dopo di che si fa partire la registrazione adesso proviamo iconizziamo un attimo e adesso vediamo che cosa si può fare molto semplicemente per esempio prendiamo delle slide vedete io apro per esempio delle slide e va bene se sono slide di un corso poi per esempio apro anche un pdf che per inciso contiene la stessa cosa dopodiché decido che però così non si vedono tanto bene allora voi sapete che se io vado qui clicco qui vedete che ho la possibilità di avere molteplici schermi se non ce li ho posso fare più e aggiungerli ok quindi per esempio io vado qui faccio così e poi dopo di che cosa faccio prendo il pdf e lo sposto in un altro schermo ok e poi prendo questo e lo sposto ancora in un altro schermo dopodiché per esempio vado qui e qui ho il pdf poi faccio quattro tasti in su ci scusate quattro dita in su e per esempio clicco qua è così qui o il powerpoint se voglio andare da uno all'altro uso quattro dita però verso destra o verso sinistra ok queste sono cose ben note però secondo me e sono sempre utili non basta io potrei voler usare anche una web prima addizionale perché il problema principale che in questo modo non posso scrivere a mano ok quindi potrei voler utilizzare una tavoletta grafica che va sicuramente bene quindi posso usare una tavoletta grafica potrei avere un portatile con lo schermo touch e quindi usare una penna per scriverci direttamente sopra oppure ancora più semplicemente potrei collegare una webcam su un treppiede dopodiché faccio partire il preview ed eccolo qua vedete io e sul tavolo prendo la mia penna scrivo quello che devo scrivere e si vede tutto nel filmato ok io qua quattro dita in su e vedete che per esempio passo alle slide e poi passo alla mia webcam e faccio vedere via via le varie cose ok ancora soltanto una bellissima nota sulla diciamo sulla struttura fisica dell'oggetto io adesso staccherò la webcam dal dal suo treppiede per farvi vedere il funzionamento eccolo qua vedete che sostanzialmente allora vedete l'organizzazione di questo genere c'è un treppiede su cui è stata montata la webcam poi lì c'è il portatile lì c'è il foglio di carta questo è la webcam collegata al usb questo è il microfono microfono esterno usb che viene collegato appunto all'usb ok se io qua rimonto la web al suo posto cambio di posto e adesso per esempio io potrei decidere di fermare qui la registrazione e quindi non dovrò fare altro che premere ctrl b e la registrazione si ferma